Dipende bene d'anticipo la linea di passaggio Gigena, ancora Ciorciari, brava ad andare in uno contro uno contro Paul Boudet, un'altra magia di Diego Ciorciari per Lee Matthews. Gigena, palla a terra, batte Fox sul primo passo, poi la veloce di Lee Matthews. Ancora Rossini che vuole Rocca contro Moore, prende bene la linea di Foglio, un'altra veloce di Matthews, tiene che si conclude. Ci sono sei secondi di discrepanza fra il tabellone, il cronometro dei 24, ancora Ciorciari che vuole a uno contro uno contro Rossini, lo scarica per Di Marco Antonio, e l'affondata di Lorenzo Di Marco Antonio. Ancora Mori a gestire questo pallone in attacco, l'aiuto di Paul Boudet, Mori che ferma il palazzo, va da Morales. Ancora Quanan che trova Abdul Fox, 9 per chiudere, ancora Fox, la palla sotto per Matthews, l'affondata volante di Lee Matthews. Mettius. I 10 rimini con il personale per il tecnico realizzato, poi Ciorciari spezzare. Dieguito Andress Ciorciari. Grande numero del ragazzo di Santa Fe. Mettius. 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 Mettius.